Se fai yoga guarda questo video perché in occidente c'è un concetto dello yoga che si discosta molto dal concetto di yoga dal mondo in cui è nato lo yoga che è l'India Yoga è unione la parte che è venuta in occidente che cos'è? che lo yoga è una serie di esercizi fatti con grande flessibilità dove puoi far vedere che hai un bel fondoschiena che hai dei bei bicipiti, un bel six pack abs e dove sei capace di metterti le dita delle orecchie dentro le dita delle orecchie, le dita dei piedi nelle orecchie oppure fare pose estremamente strane qua ci sono un paio di incomprensioni uno la parte degli esercizi è solo una parte, è solo una componente del mondo dello yoga gli esercizi, gli asana servono a mantenere il flusso energetico in un certo stato ed avere consapevolezza del corpo gli asana di yoga sono la meditazione del corpo ci sono tanti tipi di meditazione gli asana, quindi gli esercizi quello che viene definito in gergo yoga è la meditazione del corpo e avere consapevolezza di questo grande oggetto di osservazione tanti tipi di yoga c'è lo yoga dove ti focalizzi il vipassana per esempio sulla respirazione nel naso qui poni attenzione eccetera poi poni attenzione sulle sensazioni sottili eccetera eccetera gli asana poni l'attenzione dove? sul corpo sull'asana sulla postura che stai facendo in quel momento sulle micro sensazioni che tu provi sui vari punti in cui senti dei blocchi energetici dove senti i flussi di energia dove senti il prana che fluisce certo tutto questo richiede del tempo non è una roba che viene così dall'oggi al domani le micro sensazioni arrivano nel tempo perché la maggior parte delle persone è abituata ad utilizzare solo gruppi di muscoli grossi e non pone attenzione sul gruppo di muscoli piccoli sui muscoli più piccoli non si pone l'attenzione però sono lì sono presenti man mano che diventi aware man mano che diventi consapevole ecco che inizia a porre attenzione anche sui micro movimenti dei micro muscoli bene perché ti ho invitato a guardare questo video se fai yoga perché il lockdown oltre ad aver portato un sacco di cose positive ha portato anche delle situazioni in cui bisogna fare attenzione c'è stato infatti un proliferare di scuole di yoga online è bello ciò che hanno fatto questi insegnanti dove hanno cercato comunque in tutti i modi di stare a contatto con i loro studenti e cercare di dargli e diffondergli dei principi sani e buoni quindi questa cosa è molto bella dall'altro lato devi fare attenzione perché in un rapporto online è estremamente difficile per il docente riuscire ad allinearti riuscire a metterti in una postura corretta immagina una classe dove ci sono 100 studenti una classe online dove ci sono 30 studenti come fa un un istruttore a correggere a porre attenzione con le linee che vanno che vengono peggio ancora se il corso è digitale te lo segui solo tu e non hai modo di avere qualcuno che ti dà un feedback perché perché quando fai un errore in una posizione stai insegnando al tuo corpo ad entrare in una posizione in maniera scorretta e magari quella posizione danneggia tutto il tuo corpo va a creare dei blocchi energetici che lo vanno a peggiorare vedi soprattutto questo è vero nel mondo occidentale ultra competitivo dove un ginnasta ha una vita molto breve 30 anni 40 anni un ginnasta è da prendere da buttare nel gabinetto perché non serve più un calciatore a 40 anni è vecchio da buttare via lo stesso nel basket eccetera i loro corpi sono stati distrutti non funzionano più l'agonismo del mondo occidentale dove devi sempre fare meglio dell'altro è questa mentalità estremamente pericolosa per il tuo corpo perché siamo corpi diversi generi sessuali diversi maschio femmina con caratteristiche diverse la donna ha delle caratteristiche l'uomo ha delle altre caratteristiche i gruppi muscolari la composizione dei muscoli diversa la caratteristica dell'uomo è diversa dalla caratteristica della donna ma non solo ogni corpo è diverso ci sono corpi più flessibili corpi più forti corpi che si adattano alle posizioni meglio e quindi non puoi prendere emulare una foto che vedi sui social e dire ah o una foto che vedi su un libro o su un corso perché magari il tuo corpo non è pronto vedi l'obiettivo non è la posizione finale l'obiettivo è l'osservazione lo yoga non è un punto di arrivo non devi arrivare da nessuna parte non c'è un arrivo è un punto di osservazione è una meditazione dove tu ti osservi invece nel mondo ultracompetitivo moderno occidentale c'è sempre un punto di arrivo abbiamo fatto i 100 metri in 10 secondi adesso li dobbiamo fare in 9 secondi e poi in 8 secondi e ci vedi c'è un punto di arrivo questa è la mentalità occidentale ultracompetitiva ma lo yoga non è così se quello si tocca le orecchie tu non è che ti devi toccare il timpano interno non è che ti devi toccare no non è così devi osservarti osservare il tuo corpo e trovare il tuo punto di equilibrio che è totalmente diverso dal punto di equilibrio di un'altra persona sei alto in un modo diverso pesi in un modo diverso hai mangiato cibi diversi hai fatto hai un'esperienza pregressa diversa hai giocato a calcio nella tua vita hai giocato a tennis hai suonato il pianoforte che cosa hai fatto hai parlato sei un oratore che cosa hai fatto nelle tue vite precedenti un bagaglio completamente diverso ognuno dagli altri quindi non puoi paragonarti però nel mondo occidentale c'è tanto questo aspetto del paragone quindi fai grande attenzione a uno la flessibilità perché yoga non è flessibilità non c'entra proprio niente non importa dove arrivi non è quello il senso non è quello il senso il senso è osservare invece hanno fatto dello yoga il punto di arrivo e su questa cosa qua molte persone si stanno distruggendo si stanno facendo male ci sono persone che si stanno facendo dei danni da yoga incredibili vedo qui un sacco di persone che si scassano giorno dopo giorno qui immagina questa è la patria dove vengono sfornati gli istruttori del mondo Rishikesh è per antonomasia il luogo la patria dello yoga il luogo dove vengono creati i formatori di tutto il mondo si scassano qua i formatori figurati gli allievi quindi questa sta diventando tra l'altro l'assurdità di tutta questa cosa qua è che in 200 ore ti viene dato un certificato dagli Stati Uniti che dice che conferma che tu sei abile a insegnare yoga e la cosa ancora più assurda è che molte scuole di yoga in Europa pretendono dagli insegnanti il certificato da 200 ore ma tu con 200 ore di yoga non hai capito niente ma zero totale ma niente nada de nada forse ha avuto così un barlume di che cosa sono gli asana di yoga e questo è ciò che sta succedendo e le conseguenze sono disastrose molte persone si stanno facendo male si stanno stirando i legamenti non riescono più a fare yoga perché perché sono distrutte persone anche molto giovani ventenni trentenni che si scassano perché vogliono fare a tutti i costi la posizione da pubblicare sui social network per far vedere quanto sono bravi quanto sono brave ma nel frattempo si sono si sono scassate quindi grande attenzione a questa cosa qua e il proliferare di tutti questi corsi di yoga online bisogna fare attenzione quindi l'intento è molto bello il mio suggerimento se ci tieni al tuo corpo è quello di avvicinarti a un istruttore qualificato che ti dà un altro indizio un altro indizio e che ti segua tu per tu no online la sasta online va mia ben no rischi di farti male vai di persona e ricordati una cosa e te lo dico da ex atleta competitivo ultra competitivo in diverse discipline dove il dolore era parte integrante vedi nella cultura moderna c'è questo slogan no pain no gain non è così il dolore ha un senso il senso del dolore è dirti uè ciccio guarda che non va bene così cioè il corpo ti sta dando un segnale ti dice amico del giaguaro guarda che non va bene ok non va bene che vai in quella direzione ma il tuo ego interviene perché vuole fare la foto da pubblicare sui social e dice no ma io resisto al dolore perché no pain no gain ma non funziona così una delle prime regole di yoga è riuscire a mantenere una posizione a lungo termine in uno stato di agio dove sei sì in tensione ma non in dolore è una posizione che tu riesci a tenere per lungo term per lungo tempo riesci a tenere quella posizione no perché ti fa un male bestia e allora stai sbagliando la posizione quindi fai attenzione a quegli insegnanti che ti mettono in quelle posizioni dove senti del dolore io mi ricordo c'era uno dei miei insegnanti al TTC al teacher training course al corso per diventare insegnante di yoga che mi diceva Luca dai di più dai che è dentro dico guarda che fa male il polso mi sono scassato quando facevo equitazione no dai dai che ce la puoi fare non fare il pappamolla scassato scassato poi mi ci è voluto un sacco di tempo per riacquisire l'abilità del polso grazie a delle posizioni corrette degli asana corretti quindi grande attenzione quindi il mio suggerimento è vai a farti vedere da una persona competente che ti faccia stare in una posizione che ti mostri come ci si allinea bene in una posizione perché lo yoga dovrebbe diventare per te gli asana di yoga dovrebbero diventare per te un accompagnamento per la vita che ti aiuta tu realmente riesci a risolvere delle problematiche che riguardano il tuo corpo riesci a risolvere dei dolori che riguardano il tuo corpo dei blocchi energetici il dolore che tu senti nel corpo è un blocco di qualche canale energetico quindi è bello riuscire a sbloccarlo ed è una pratica che devi tenere possibilmente per tutta la vita perché ti aiuterà tanto tutta la vita tu stai bene dopo che ti fai i tuoi asana di yoga stai bene sei pronto per affrontare la giornata con grande energia perché hai il prana che fluisce bene all'interno di tutto il corpo riesci a fare pranayama respirazione bene riesci a cantare bene stai bene digerisci bene stai bene ma se dopo una sessione di asana di yoga stai male c'è qualche problema non va bene non fa bene e quindi togliti dalla testa questo concetto moderno del no pain no gain perché non funziona così va bene sentivo che era necessario dare qualche cosa perché vedo un sacco di ragazzi giovani vent'anni trent'anni qua tutti acciaccati che fanno tutti sti teacher training course che si scassano tutti quindi mi immagino che cosa succeda ai loro allievi deve essere una giungla proprio e dove sta si sta diffondendo molto questa storia di pubblicare le posizioni più astruse sui social eccetera quindi non è flessibile vedo anche tante persone estremamente flessibili che vengono con noi a fare a rile allinearsi perché tutta la loro flessibilità gli ha portato dei grandi dolori grandi belle foto da pubblicare ma poi la sofferenza non viene narrata in una foto i disastri che ci sono dietro quella foto spesso non vengono narrati invece le persone soffrono dietro questa cosa qua quindi tutti i miei magari pensano ma guarda che bello guarda che brava eh ho capito ma si è scassata per fare quella roba lì quindi non è tanto è meglio stare bene e fare una foto schifosa ma vivere bene fai una foto schifosa ma vivi bene meglio no? vivi bene azzalot